Benvenuti a questo nuovo incontro Dalla stanza della poesia Oggi il protagonista è Marco Furia Poeta, poeta visivo Ha una lunga esperienza anche nelle riviste letterarie Noi qua abbiamo, dalla sua vasta biografia Abbiamo tre libri provenienti dalla nostra biblioteca tematica poetica Che abbiamo qua in stanza della poesia So che sta facendo un altro nuovo libro Con l'edizione Contatti Ma io vorrei subito iniziare soprattutto con questa tua forma Che hai utilizzato Soprattutto quindi questa sorta di prosa poetica A cui hai affidato la maggior parte delle tue produzioni Ecco se ci vuoi spiegare perché ti sei affidato questa forma Sì, beh ho iniziato ormai tanti anni fa Con Adriano Spatole e Tam Tam Appunto con queste prose Che lui stesso ha definito prose poetiche Quindi diciamo Sono in linea anche con Con Adriano Spatole Beh penso che questo tipo di scrittura Sia particolarmente adatto Ma direi Al mondo che viviamo E anche alle esigenze stilistiche Del mondo in cui viviamo Nel senso che la poesia Quella in versi Che ho anche fatto Per carità Ci mancherebbe Si sente come se non arrivasse più Dove dovrebbe arrivare Naturalmente non escludo Che escano fuori degli ottimi poeti Eccetera Però c'è questa mancanza Ecco Io l'avverto E quindi come dire Ho preso questa strada Che avevo preso spontaneamente appunto Gia tanti anni fa Poi l'ho interrotto a un certo punto E l'ho ripresa E mi sembra che sia una strada Almeno che mi soddisfa E che va anche a riempire Un certo vuoto Un po' della letteratura italiana Perché poi tutta questa prosa poetica In Italia Non è stata fatta O perlomeno è stata fatta Eccetera Però forse meno che altrove Sì perché ad esempio in Francia C'è un genere Proprio che si chiama il ressi Che qua forse non c'è una traduzione In italiano Che è proprio questa sorta di prosa poetica E sempre parlando del tuo stile Uno dei tuoi marchi di fabbrica Se mi passi il Il nome È un po' quello Di anteporre L'aggettivo al sostantivo È proprio reiterato questa cosa E quindi volevo sapere Quando ti è nata questa cosa E perché comunque l'hai Beh Dunque avrei visto che Queste scritture Si servono molto Di quello che una volta a scuola Si chiamava l'ablativo assoluto Cioè degli incisi Ora l'inciso secondo me Da un effetto di straneazione Ma anche di coinvolgimento Nell'inciso che segue Finché poi c'è il verbo E la cosa in qualche maniera Si chiude Tutto un gioco Eccetera L'aggettivo che precede il sostantivo Secondo me Aiuta questo processo E vabbè È nato spontaneamente Poi ho continuato a farlo Perché mi sembra che Almeno dal mio punto di vista Funzioni Ecco E internazionali Sappiamo che le riviste Soprattutto nel novecento Hanno svolto questa Insostituibile opera Di divulgazione Ma anche di coesione Fra differenti anime Letterarie E scrittoriche E secondo te Ha ancora un senso In questa epoca di social Elettronica Comunque Ha ancora un senso La rivista cartacea Direi di sì Direi di sì Anche se non bisogna dimenticare Che c'è la rete Che ci sono i blog I siti Eccetera Eccetera Che i giovani specialmente Come dire Seguono questo tipo Di prodotto poetico E quindi non bisogna assolutamente Mancare di far parte Di questo mondo Però Penso che la rivista cartacea Che è anche sempre bella a vedersi Possa Possa senz'altro Continuare sulla sua strada Insomma Io personalmente Ho fatto Beh Ho collaborato Con Tantana di Anno Spatola Poi sono stato Diversi anni Parecchi anni Nella redazione Di Antrem E adesso sono un collaboratore Sono poi uscito E sono un collaboratore Ormai da anni Di una rivista Sperimentale Giapponese Delta Su cui pubblico Delle immagini Astratte Ora che ne hai parlato Ti volevo anche fare Una domanda Su Marco Furia Poeta Visivo Sì L'aver conosciuto Spatola Quando ero ancora Abbastanza giovane Evidentemente Ha lasciato il segno Cioè quel famoso libro Edito da Paravia Verso la poesia totale Che parla proprio Di tutto questo mondo Tutta questa Costellazione Eccetera Poi così Mi sono trovato a farla E in particolare Ho trovato questo spazio In questa rivista Giapponese Che è scritta in giapponese Ovviamente si capisce ben poco Però poi ha tutta una serie Di immagini Dove oltretutto Sono finiti anche Personaggi che appunto A suo tempo Lavoravano con spatola E sì Io faccio praticamente Delle foto astratte E vengono pubblicate Sì Sì Ecco una domanda Che facciamo a tutti I nostri ospiti Ma soprattutto anche perché Vogliamo dare un consiglio Alla lettura Perché la poesia In Italia ma non solo Tutti la scrivono E nessuna legge Quindi volevo fare Anche a te questa domanda Quali sono i tuoi poeti A riferimento O se hai comunque Dei consigli da dare Come lettura di poesia Beh i poeti di riferimento Possono Per parlare Diciamo Della Della letteratura italiana Vabbè c'è tutto Un retroterra Di poesia Un retroterra Piuttosto Poco frequentato Comunque non so La prosa d'arte Di Cecchi Cardarelli eccetera Aggiungerei che È sempre Diciamo poco citato Ma secondo me Molto importante Antonio Pizzuto Per uscire fuori Dall'Italia Beh abbiamo Francis Spong Sicuramente Abbiamo tutta L'esperienza Delle Col du Regarde O Rumo au Romain Eccetera E poi abbiamo Anche quella tradizione Dell'Ulipo Di cui ha fatto parte Anche Calvino E che anche lì Abbiamo Perrec Eccetera E qualche cosa Diciamo di questa Oggettività poetica In prosa Lì si trova Insomma Ecco Direi che questo Più o meno Ecco Tra poco Sentiremo Una lettura Di tuoi versi Qua infatti Prima facevo menzione Proprio al tuo libro Menzioni Forma di vita E tratteggi Volevo sapere Che cosa ci leggerai Se puoi già Presentarci Le letture Che tra poco Sentiremo Beh Puoi essere Tratteggi Sicuramente Poi Ho scritto anche Un paio di ebook E anche un libro Cartaceo In cui Praticamente Faccio una lettura Poetica Di dipinti Potrei leggere Uno di questi Brani Su un dipinto Particolare Pensavo che leggessi Un dipinto No No Il dipinto Lo lascio fare Al pittore Uno di questi Di queste letture Qui io giudico Poetiche Su un dipinto Ok Vabbè Ciao Bene Allora Sentiamo Senz'altro La lettura di Marco Furia E grazie Dalla visione Grazie Leggo da Tratteggi Alla ricerca Di indispensabili Occhiali Il suo sguardo Cadde Con sorpresa Sul temperino A più lame Modello svizzero Non ritrovato Il pomeriggio Precedente Proprio nel cassetto Che stava ora Ispezionando Come potè Non accorgersi Della presenza Del tagliente Utensile Forse Il controllo Fu sbrigativo O forse Un'ignota mano Rimosse E poi Ricolocò Il piccolo coltello Scorto Su attigua Menso La necessario Strumento ottico Giudicando L'enigma Privo di importanza Non si impegnò A risolverlo Aperto Telefonico Elenco Cercò Il numero Di antica bottega Non avendolo Trovato Ripetè Senza esito La ricerca Tra le pagine gialle Estratto Sottile Smartphone Elegante Borsa Si collegò A internet E digitò Il nome Del rinomato Esercizio Ottenne così Soltanto L'inutile Indicazione Di un secondario Non più attuale Recapito Certo Dell'esistenza Del laboratorio Con vendita Al minuto La cui vetrina Poteva scorgere Dalla finestra Consultata Elettronica Lubrica Tentò Senza successo Di mettersi In contatto Con persone In grado Di fornire Ragguagli Poiché L'ordinazione Era urgente Avendo notato La caduta Di grosse gocce Di pioggia Indossò Ampio impermeabile Afferrò Il ricurvo Manico Di policromo Parapioggia E uscì Avendo notato Come tondo Bottone Fosse sul punto Di staccarsi Tentò Tentò Di strappare Il frammento Di filo Che ancora Tratteneva L'utile Dischetto Poiché La manovra Non si mostrò Agevole Estrasse Taglienti Forbici Da cilindica Scatola E Inseriti Pollice Indice Della mano Destra Negli appositi Anelli Perfezionò Con un sol colpo La necessaria Operazione La residuale Presenza Di un Antestetico Ciuffo Di fili Sulla superficie Di delicato Tessuto Venne Negligentemente Ignorata Chiesti Per via Telefonica Necessari Chiarimenti Ottenne Pronta Purtroppo Insoddisfacente Risposta Sarebbe stato Richiamato Più tardi Da persona Esperta In materia Minuscolo Calendario Cartaceo Estratto Da taschino Interno Di elegante Giacca Lo avvertì Del fatto Che poteva Disporre Di alcuni Giorni Per corrispondere Quanto dovuto Non di meno Essendo prossimo A partire Sarebbe stato Conveniente Ricevere Al più presto Certe Indispensabili Informazioni Improvviso Telefonico Trillo Ruppe Il silenzio I raguagli Richiesti Erano In arrivo Consultata L'edizione Minore L'unica Al momento Disponibile Di rinomato Dizionario Non avendo Rinvenuto A un certo Termine Di non comune Uso Condotta A buon fine Laboriosa Manovra Potte leggere Su elettronico Schermo La definizione Oggetto Della sua Ricerca Ritornato A scrivere Resosi conto Del fatto Che quel vocabolo Non era Il più adatto Decise Senza necessità Di ulteriori Consultazioni Di impiegarne Un altro Domestico Felino In mattutina Solitaria Sosta Sul bordo Di ampio Marciapiede Avrebbe rispettato Il codice Della strada Avrebbe Atteso Prima di dare Avvio All'eventuale Attraversamento L'accendersi Di verde Lampada Semaforica Si chiese Anche I gatti Sono in grado Di distinguere I diversi Colori Senza Avere Trovato Soddisfacenti Risposte A simili Quesiti Imboccò ripida Viuzza Perdendo di vista Il maculato Animale Poiché Il cosmico Motto Del pianeta Terra Provocava L'ingresso Di luminosa Radiazione Che invadeva Per buona Parte La superficie Di tondo Affollato Tavolo Provocando Fastidio Agli occhi Uscì Dal locale E Superata Ripida Serie Di scalini Imboccò Tortuoso Lungo Corridoio Raggiunta Automatica Porta Ne superò La soglia Non poteva Accoggersi Così Di come Fulgido Effimero Riflesso Si fosse Ritirato Consentendo Il totale Impiego Di tondo Appoggio Utile Alla Compilazione Di moduli Vari Poiché La caldaia Condominiale Come annunciato Da dirigente Portiera A mezzo Affisso Cartello Sarebbe Rimasta Spenta Per l'intera Giornata Collegò All'impianto Elettrico Piuttosto Rumoroso Termo Ventilatore Posto Il segno Inciso Su sagomata Manopola In corrispondenza Della scritta On Nonché Regolato Il termostato Si sedette Su comoda Poltroncina Un improvviso Silenzio Lo avvertì Del fatto Che il soffio D'aria calda Si era interrotto Raggiunto L'apparecchio Ripette Più volte Inutilmente Le operazioni Di accensione E regolazione Scollegare La spina Per inserirla Subito dopo Nella presa Di corrente Si sarebbe Rivelata Utile manovra? Simpatico Cucciolo Cui furono Rivolte Affabili parole Abbandonò Angusta Zona Del pavimento Delimitata Dalle gambe Di metallica Sedia Per raggiungere L'individuo Che aveva tirato La sua attenzione L'aver gradito Senza indugio Alcuno Un piccolo Boccone Mostrò In maniera evidente Come al desiderio Di coccole Non fosse Estraneo Un certo interesse Alimentare A ulteriore Richiamo Proveniente Da altro avventore Fece eco Un risoluto Ordine L'obbediente Cagnolino Così Ritornò A occupare Il ristretto Spazio Concessogli Ecco Passo a leggere Il titolo Delle buche E' Pittorici Diomi Questo è Il quadro Di cui Parlo Il dipinto Di cui Parlo Nel 1965 Will Barnett Dipinse Donna che legge Stesa Sul letto Avvolta In una rossa Coperta Su cui si trova Un candido Gatto Acciambellato Elena Moglia Dell'artista Legge un libro Tenendolo Sollevato Sinché L'osservatore Può vedere I suoi occhi E i lineamenti Del suo Grazioso Viso Il felino Accomodatisi In grembo Alla donna Rivolge Lo sguardo Verso Il non visibile Bordo Del letto Un reciproco Scambio Di calore Tra essere Umano E animale Rende Probabilmente Entrambi Più piacevole Il riposo Ed è evidente Fonte Di serenità I colori Sono intensi E uniformi I profili Sono raffinati E precisi L'espressione Di Elena È fissa Concentrata Nella lettura Quella del gatto È quieta E un poco interrogativa Il libro Tenuto Completamente aperto Forma un rettangolo Azzurro Sopra gli occhi Della donna Mentre la parete Di fondo Scura Ricorda Le tenebre notturne L'immagine È distinta Precisa Non priva Di tratti enigmatici Dove si trova La donna? Con tutta probabilità Nel suo letto Tuttavia A parte la presenza Del gatto Non si scorgono Tracce di intimità Casalinga Se qualcuno Ci dicesse che All'interno di una Comoda astronave È in viaggio Verso sperdute galassie Forse Saremmo disposti A credergli I contorni I contorni Nitidamente tracciati I colori Unifermemente estesi Conferiscono al dipinto Lineamenti Non estratti A valenza Metafisica Non estranei A valenza Metafisica L'affetto Non di meno È palese Il gatto Si fida Di Elena E quest'ultima Non intende Certo scacciarlo Sembra quasi Che la compagnia Dell'animale Sia indispensabile E che l'attenta lettura Non possa procedere In sua assenza Gli affascinanti Lineamenti Della donna Tradiscono l'amore Del marito artista Tutto In quel personaggio Femminile Mostra un'intensa Concentrazione Che avvertiamo Saprà sciogliersi Al momento opportuno In gesti appassionati Eppure Nonostante La presenza Del felino Un'atmosfera Poco domestica Avvolge la scena Tanto che La parete scura Potrebbe persino Far pensare A un letto Magicamente Sospeso Nel buio Della notte cosmica Una persistenza Metafisica Rende l'immagine Serena Nello stesso tempo Non priva Di inquietudine Resta l'amore Che lega Tra loro Tra esseri viventi Elena Il gatto E l'artista Ossia Un profondo sentimento Capace di tenere Unite più esistenze Qualunque sia La circostanza esterna Gli aspetti Magici E metafisici Di cui sopra Non intaccano Minimamente Quella fiducia Quella mancanza Di dubbio Di diffidenza Di sospetto Vissuta A diretto contatto Con gli esseri amati Indipendentemente Da tutto il resto Quello che davvero Conta È volersi bene Sembra un messaggio Banale Ma non lo è Per nulla Poiché Chi lo rivolge Agli osservatori esterni Entra nell'emozione Non la rappresenta Semplicemente La illumina Dall'interno Come non riconoscerci In una simile immagine Come non riconoscerci Di sospetto Come non riconoscerci In una simile immagine Di sospetto